Rashid, partiamo dal tuo gol, il primo in maglianiera azzurra, il primo davanti ai nuovi tifosi, sei corso verso la curva nord, che emozione è stata? No, è stato bellissimo, sì, intanto sono molto contento per il primo gol fatto qua a Pisa, soprattutto in casa e poi ho corso sotto la curva che insomma viene distinto, anche perché con una curva così viene quasi impossibile non andare sotto questo muro di ultra, quindi è veramente bello, bellissimo, mi sono emozionato, quindi è bello. Peccato che la rete non si avvalzi a tre punti. Sì, peccato sì, anche perché comunque abbiamo fatto una bella partita sotto tutti gli aspetti, abbiamo avuto un sacco di occasioni che non siamo stati fortunati, però questa è la strada giusta da percorrere, insomma. E quindi dai, sono contento per la partita che abbiamo fatto oggi, anche se è peccato che non ci sia riuscito a portare a casa i tre punti. Peccato non aver sfruttato la superiorità numerica arrivata in secondo tempo. Sì, comunque sia noi abbiamo spinto, abbiamo corso, abbiamo lottato anche nel secondo tempo, abbiamo creato delle occasioni, abbiamo provato a sfruttare la superiorità numerica e purtroppo non siamo riusciti a fare gol, però penso che la netta superiorità si è vista, anche se comunque contro una squadra molto attrezzata e molto forte, quindi è una delle prime a lottare per il primo posto.